Sono davvero contento di dare il benvenuto a Don Giorgio Ferretti, arcivescovo eletto di Foggia Bovino. Buongiorno Don Giorgio, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno anche da parte mia. Allora Don Giorgio, faccio io le presentazioni, perché padre Raffaele Mangiacotti è stato missionario per tanti anni in Chad ed è anche figlio della tua futura diocesi, ecco, quindi lo ritroverai, penso, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando, ecco, presumibilmente collaborerete anche con questo spirito missionario, giusto, padre Raffaele? Certo, senz'altro. Allora Don Giorgio, da dove vogliamo iniziare? Innanzitutto grazie per la tua disponibilità, perché davvero siamo a poche ore dalla tua ordinazione episcopale, sabato 9 dicembre alle 17 in San Giovanni Laterano riceverai il terzo grado del sacramento dell'ordine, l'episcopato e poi l'ingresso a Foggia. Allora partiamo dalla nomina, ecco, perché non posso non partire da questo dono inaspettato, come l'hai definito tu. Sì, abbastanza inaspettato, non avevo assolutamente idea. Mi ha chiamato sabato sera il segretario dell'annunziatura di Maputo, perché attualmente non c'è il nunzio, e io sono amico suo, a volte pranziamo, prendiamo un caffè, mi ha detto vieni domani mattina, e la mattina dopo, dopo aver celebrato la messa, sono andati in nunziatura, gli ho detto allora ci prendiamo un caffè e lui mi fa no no, vieni che ci sediamo in cappella, e io lì mi sono abbastanza preoccupato di cosa è successo. Forse era meglio l'acqua. Ora meglio il caffè, avrei preso volentieri il caffè prima, ma comunque. E quindi ti ha comunicato la decisione di Papa Francesco, che ti nominava arcivescovo metropolita di Foggia Bovino. Tra l'altro stiamo vedendo anche nel nostro led world delle immagini relative alla visita di Papa Francesco, perché tu essendo parroco della cattedrale di Maputo in Mozambico, appunto hai avuto l'opportunità di accogliere e di porgere, come succede nelle visite pastorali, i parroci e i vescovi, il crocifisso che introduce il Papa all'interno della cattedrale. Poi parleremo anche di questo, che è stato davvero un dono importante, ho avuto modo di leggere alcune interviste che tu hai rilasciato, un dono anche questo inaspettato, quella della visita del Papa in Mozambico. Sì, un dono bellissimo perché venne l'inviato del Papa alcuni mesi prima e disse il Papa avrebbe piacere di incontrare i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i catechisti nella cattedrale e quindi noi ovviamente subito ci siamo attivati per ristrutturarla, sistemarla, le luci, i microfoni, l'abbiamo fatta molto bella per prepararla all'incontro col Santo Padre. Poi lui è arrivato e c'erano tanti anche fedeli, giovani, chirichetti della cattedrale, si è fermato molto anche fuori dalla chiesa a salutare tutti, il coro. E' stato un momento veramente bello, abbiamo vissuto veramente quella tenerezza e quel modo pastorale che ha Papa Francesco di incontrare. Poi ovviamente dentro la chiesa è stato un momento anche un po' più ufficiale, in cui lui ha fatto un discorso anche molto molto bello sul buon pastore, su come incontrare l'uomo del mondo contemporaneo, non facendo proselitismo ma attraendo, insomma un discorso che porto nel cuore, come porto nel cuore le immagini e quell'incontro. Don Giorgio, la domanda che in tanti si pongono magari, ma come sei capitato in Mozambico? Beh, in Mozambico ci sono andato perché sono un sacerdote della fraternità missionaria della comunità di Sant'Egidio. Ho chiesto io di poter andare in missione e ovviamente non ho chiesto dove. Mi è stato detto che sarei andato in Mozambico, che è un paese molto caro e molto importante nella storia della comunità di Sant'Egidio, perché nel 1992 a Roma è stata firmata la pace tra il governo e la guerriglia, ponendo fino a una lunga e sanguinosa guerra civile. Da allora la comunità di Sant'Egidio è presente con tanti, tanti giovani, tanti adulti che gratuitamente aiutano i poveri e anche con due grandi progetti, uno contro l'AIDS che si chiama DREAM e l'altro per la registrazione anagrafica che si chiama BRAVO. Per cui io arrivavo come unico sacerdote di Sant'Egidio, però in una realtà di laici come è la comunità di Sant'Egidio, molto importante, molto amata e rispettata in quel paese. Quindi in questo contesto mi è stato anche facile inserirmi e lavorare. Non parlavo portoghese, quindi all'inizio insomma imparare portoghese a 50 anni è stato un minimo uno scoglio, però grazie a Dio il portoghese non è una lingua così distante, ecco insomma il ceppo latino è forte. E poi la gente è stata buona con me all'inizio, praticamente parlavo italiano, fingevo di parlare portoghese, ma facevano finta di capirmi, mi rispondevano, insomma ci siamo capiti, ci siamo voluti bene e poi dopo insomma le cose sono decollate. Giustamente noi italiani poi abbiamo la lingua dei segni, ci facciamo capire con i segni. Anche col sorriso, con gli occhi riusciamo abbastanza a esprimerci diciamo. Certo, certo. Don Giorgio, allora a me vi fa piacere stamattina che possiamo quindi conoscerti, ma ci conosceremo poi personalmente. Però ecco nel tuo viaggio missionario, questo programma si chiama Viandanti sulle strade del Vangelo, ecco anche tu sei stato un viandante, sei ancora un viandante e lo sarai anche nella tua prossima diocesi. Ecco che cosa c'è di bello, che cosa ti porti come di bello nel cuore in questa esperienza missionaria soprattutto? La cosa più cara che ti è potuta capitare? Sì, giustamente come dici tu, la cosa più cara, perché del Mozambico io potrei parlare per ore e non solo mi stancherei ma anche forse mi commuoverei. Però la cosa più cara è veramente l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, cioè incontrare una chiesa che si apre, che accoglie, che cerca gli altri, che incontra gli ultimi, che battezza, che celebra i funerali con attenzione, che va alla ricerca dei lontani, che dialoga con le altre religioni senza timore, senza superiorità, in fraternità con tutti. Ecco, guarda, il Magistero di Papa Francesco in questi anni mi ha accompagnato tantissimo e anche la Fratelli Tutti è stata molto importante, come è stata importante anche l'enciclica sul creato, perché anche in Africa purtroppo stiamo rovinando un paradiso terrestre. Quindi veramente in due parole, diciamo, questo spirito della chiesa in uscita ha dato molti frutti e quindi io posso testimoniare, diciamo, con la mia piccola e umile esperienza missionaria, come vivendo una chiesa gioiosamente in uscita i frutti sono tanti. Potrei azzardare un aggettivo, Don Giorgio, adulta, una chiesa adulta? Sì, adulta perché non ha paura di aprirsi, non si chiude nella sacrestia, non ha paura di mondi lontani, di mondi diversi, ma anzi c'è un'attrazione verso l'altro, nel comprenderlo, nel diventare amici. Noi abbiamo in questi anni battezzato tanti, io battezzavo a Maputo circa 200 adulti ogni anno provenienti da altre religioni o quelle che noi chiameremmo le chiese neopentecostali della prosperità, cioè mondi anche lontani dalla chiesa cattolica. Però persone che, diciamo, incontrate, come dici tu, cioè in modo adulto, sereno, senza l'ansia del proselitismo, ma con l'idea di incontrare cuore a cuore, di dialogare, hanno scelto liberamente, hanno fatto un cammino per entrare a far parte della nostra chiesa cattolica. Ed è importante questo aspetto e tra l'altro mi permetterei anche, Don Giorgio, di leggere anche quello che vuole essere il manifesto di un vescovo, perché tutte quelle categorie che tu hai citato, come non trasferirle poi in una chiesa che si appresta ad essere tua sposa, a prescindere dal cammino che possa aver compiuto o meno nel corso degli anni? Ma è comunque un manifesto che il vescovo, ecco, in qualche maniera annuncia nei confronti della sua sposa. Mi permetterei di interpretarla anche in questo modo? Sì, il manifesto e il programma, come diceva Giovanni XXIII, è il Vangelo. Questo lo si può vivere a qualsiasi latitudine, in qualsiasi tempo. Non esiste il da noi è così, da noi è diverso, da noi si fa così, da noi si è sempre fatto così. Non esistono le culture. La vera inculturazione è una cultura che entra nella cultura del Vangelo. Con Don Giorgio Ferretti, arcivescovo eletto di Foggia Bovino, stiamo ripercorrendo le tappe della sua vocazione. Potremmo dire così che raggiungerà il suo apice, anche se la santità è un cammino, e il cammino sacerdotale lo è altrettanto nell'ordinazione episcopale che riceverà sabato 9 dicembre nella Basilica di San Giovanni in Laterano. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, è il motto episcopale di Don Giorgio Ferretti, che potremmo definire un programma che racconta la sua vita missionaria e anche quello che vuole essere lo spirito di un vescovo. Siamo a Maputo allora, Don Giorgio. La cattedrale che ti ha ospitato per tanti anni continuerà a farlo anche per il prossimo Natale. Vorrei chiederti allora, quali sono stati i momenti più difficili nell'essere missionario? Forse l'inizio, non conoscevo quel mondo, non parlavo la lingua e per una coincidenza, anche per me naturalmente felice, fui nominato parroco di questa parrocchia che oltre ad essere la cattedrale è anche una parrocchia grandissima. Parliamo di 25 mila fedeli cattolici in un'area della città di 100 mila abitanti. Per cui una cosa anche, una sfida grande. Però sai, all'inizio non ero giovane, avevo credo 48 anni, adesso non mi ricordo, ma però c'era il grande entusiasmo, diciamo, della vera missione, perché io andavo e tornavo dall'Africa, ma abitarci proprio, viverci, essere un africano tra africani relativamente, naturalmente al fatto che... Però, insomma, è stata un po' una sfida, ma devo dire che l'entusiasmo e la voglia di fare, di cercare di fare bene, non ho mai avuto tristezza, non ho mai avuto rimpianti, veramente tanta tanta gioia. Se mai oggi mi dispiace lasciare l'Africa. Anche perché la tua non è una vocazione missionaria in senso stretto, nel senso che arrivi in Africa da adulto, dunque dopo aver affrontato una prima parte della tua giovinezza, sia fisica che sacerdotale, qui in Italia. Dico bene? Sì, a Roma prima, a Frosinone poi, come segretario di Monsignor Sprafico, e poi parroco dell'unità pastorale del Centro Storico, e vabbè, un po' di altre cose. Però io già da tanti anni seguivo le comunità di Sant'Egidio in Malawi, in Sudafrica, in Lesoto. Prima sono stato anni seguendo, andando avanti e indietro con l'Albania, il Kosovo dopo la guerra. Diciamo, le esperienze missionarie non mancavano, ma mai residenziali. Quindi da sette anni io vivo in missione, non soltanto vado e torno. Questo è stato il grande salto che ho fatto con grandissima gioia. Non l'ho fatto, diciamo, da giovane, e forse facendolo da adulto l'ho fatto con più coscienza, però non con meno entusiasmo. Sono tornato un po' giovane alla fine. Adesso vorrei chiederti, Don Giorgio, qual è la situazione in Mozambico? Noi nelle scorse settimane abbiamo anche raccontato di questa situazione di tensione, e lo abbiamo fatto proprio in questo programma con Ilaria De Bonis, giornalista di Popoli e Missione, che ci raccontava della situazione di Cabo Delgado, nel nord del paese, del Mozambico, che è ancora sotto l'influsso di guerriglieri di diverse matrici, che in qualche maniera stanno un po' scombinando quella che è una pace duramente costruita, davvero col sudore. La comunità di Sant'Egidio, l'hai detto tu all'inizio, davvero si è fatta fortemente promotrice di questa pace in questo paese. Adesso qual è la situazione in Mozambico? Guarda, intanto ti ringrazio tantissimo. Non sapevo che parlavate del Mozambico e veramente continuate per piacere a farlo, e ogni volta che vorrete parlare dell'Africa io sarò disponibilissimo a stare con voi, perché l'Africa non è un problema, l'Africa sono nostri fratelli, è una grande risorsa, sono giovani belli, bravi, intelligenti, sono una parte del futuro del nostro pianeta. Quindi non è un problema, non è l'immigrazione un problema, lo diventa nella misura in cui non lo si affronta o non si crede a una fratellanza universale. Purtroppo questo problema nel nord del Mozambico è un problema molto difficile, cioè questo jihadismo, terrorismo pseudo-islamico che attanaglia molti paesi africani, è presente anche nel nord. Nel nord considera che ci sono piccoli centri, molto poveri, e grandi foreste o quello che è chiamato un matu, cioè una foresta bassa che si estende per migliaia di chilometri, considera che ci sono delle parrocchie in Africa, in Mozambico, che sono più grandi di diocesi italiane, cioè per cui le distanze dal sud al nord del Mozambico sono 2500 chilometri, praticamente è come da Roma andare a Londra. Quindi parliamo di distanze enormi, di territori assolutamente impossibili da controllare. Di paesi nel paese potremmo definire anche così. Ma no, ma sono cose grandissime, diciamo, per cui sai chi li trova i terroristi? Poi coi mezzi poveri anche dell'esercito, della polizia, eccetera, per cui è un problema molto serio, insomma. E poi queste persone, questi, chiamiamoli terroristi, non so, cioè purtroppo utilizzano appunto il terrore, cioè decapitano, uccidono, vandalizzano, destabilizzano. E questa destabilizzazione purtroppo crea paura, crea rifugiati interni. E' una tattica che non soltanto in Mozambico possiamo vedere, ma purtroppo in molti altri paesi africani, insomma. Allora, Don Giorgio, noi abbiamo ancora un paio di minuti. Devo farti la domanda d'obbligo, perché altrimenti l'editore mi manda il cartellino giallo o forse rosso. Il tuo rapporto con Padre Pio, se c'è un rapporto con Padre Pio. Guarda, io ho poco rapporto diretto, diciamo, con la spiritualità di Padre Pio, però in questi anni ho visto tantissime persone, anche in Italia, anziani con l'immagine di Padre Pio, vescovi che in questi giorni mi chiamano, anche africani, dicendomi per piacere invitaci quando sarai a Foggia da Padre Pio. Quindi è una spiritualità che voglio approfondire, anche perché, diciamo, c'è secondo me una direzione spirituale, come i russi chiamerebbero un essere starez di Padre Pio, che va assolutamente approfondita, cioè l'idea di un padre buono che dirige, accoglie, consiglia, prega, tiene nel cuore, un uomo vicino a Dio che attrae a Dio. Credo che Padre Pio sia un grandissimo esempio contemporaneo, ma non lo devo credere io, lo si vede, lo dicono i fatti. Allora, Don Giorgio, io innanzitutto davvero ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, perché ti abbiamo strappato a questa preparazione all'ordinazione episcopale, che insomma è un impegno gravoso, importante. Quali saranno i prossimi passi? Ecco, abbiamo detto dell'ordinazione episcopale il 9, sabato 9 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, tu poi ritornerai in Africa, giusto? Intanto i prossimi passi sono che domani e dopodomani finalmente mi ritiro due giorni dalle piccole sorelle alle tre fontane qui a Roma e voglio stare in silenzio due giorni pregando, ringraziando il Signore e cercando di capire meglio cosa vuole da me in questo tempo. Poi il 9 penso a una bella festa, avranno anche, lo so, molti foggiani al Laterano. Abbiamo scelto questa chiesa perché è significativa e anche può accogliere tanti, insomma, da Genova, da Roma, da Foggia, da Frosinone, eccetera. Poi dopo, il martedì 12, ritorno in Mozambico, dove già mi aspettano tanti battesimi, sono persone che hanno anticipato il matrimonio prima che io partissi, perché fossi, insomma, un Natale intenso e dopo Natale si fanno le valigie e credo abbastanza certo il 14 di gennaio pomeriggio farò l'ingresso nella cattedrale di Foggia e con un programma che ancora stiamo definendo. Però, come mi dispiace lasciare il Mozambico, non vedo l'ora di arrivare a Foggia perché è la mia prossima missione e la vivrò come ho vissuto finora, con la coscienza che siamo poca cosa, che dobbiamo lavorare insieme, che c'è tantissimo da fare e che il Signore ci accompagna.